Grazie mille generali per la giornata assolutamente splendida. Ho imparato così tanto, ho capito sempre di più e tante idee si sono liberate. Grazie a tutti i presentatori di prima. Come vi ha accennato, chi mi ha introdotto, io parlerò delle generazioni di lavoro, in particolar modo millennials, ma anche generazioni Z, che è la nuova generazione. Però prima di presentare i propri dati, in realtà quello che faccio è una conseguenza di chi sono. Io faccio parte della globalizzazione, professore, non sono una bambina internazionale, ma un'adulta, e sono mezza americana e mezza italiana, oppure come direbbe mio padre, mio babbo, fiorentina americana. In realtà questa cosa, io sono una genex, perciò insomma, oltre 40 anni, quando crescevo non era vista bene, nel senso mi nascondevo, non era una cosa di cui andavo molto fiera, però non si vedeva, perciò spesso e volentieri riuscivo a scapparne, non mi si domandava. Però alla domanda che spesso mi risponeva, ma te ti senti più americana oppure italiana o fiorentina, dipende da dove la domandavano. Avevo, cioè scappavo sempre, era una domanda terribile. Non credo che si senta più fare, perché di bambini internazionali ce ne sono sempre, probabilmente loro si sentono internazionali, non si sentono né una cosa né l'altra. Però questa idea che in realtà, io specialmente quando entravo nel mondo delle ricerche, che chiaramente mi appassionava capire, ma come me si sentono altri? Io mi sentivo molto più vicina, quando sono andata negli Stati Uniti a fare l'amministratore delegato, agli studenti latino-americani, perché chiaramente negli Stati Uniti l'etnia era assolutamente importante, ho imparato tantissimo di come si vedeva. Mi sentivo molto più come loro nel sentirmi esclusa o no, eccetera. Perciò ho iniziato la parte nella nostra ricerca di mercato, dove domandavamo sempre più domande. Allora, cosa vuol dire diversity per te? E rispetto al mondo del lavoro, quali sono gli elementi che te pensi di portare come plus? E perciò volevo condividerli con voi e sentire un attimino. E di nuovo, credo che molte di queste cose siano già sentite. Come ho detto prima, e il titolo della mia, è proprio gli aspetti visibili e invisibili. Ho avuto la fortuna di imparare molto da Ted Childs, che ha scritto molte cose a IBM nel mondo del lavoro, di come vedere la diversity. e da molti altri studi, dove in realtà la diversità visibile è quella di cui solitamente si parla. L'età, che certe volte si vede, certe volte no. L'etnicità, il sesso. E questi sono gli aspetti visibili. In realtà, oggi, più che mai, ma in futuro ancora di più, quello che importerà sempre di più, è un po' una cosa che non puoi vedere, perciò non puoi andare a risolvere, non esistono modi di risolvere. In realtà, l'unica maniera di avere un approccio inclusivo, di apertura, come abbiamo sentito da molti, è in realtà il concetto più ampio di diversity. Quella è proprio, è come in questo senso, insomma, la parte molto, molto più profonda e più vasta. In un mondo come vediamo oggi, questa sarà probabilmente più la realtà che la non. E qui si racchiudono tantissimi aspetti, ne abbiamo sentito, non credo siano sorpresi, personalità, educazione, nazionalità, perché spesso e volentieri non si può vedere, in alcuni casi, come abbiamo sentito, persone parlano mille lingue e molto fluenti. Disabilità, perché non tutte sono visibili. E anche qui tantissimi lavori sono fatti, appunto, orientamento sessuale, accento, esperienza lavorativa, background e anche socio-economico. Negli UK, per esempio, nella Gran Bretagna, questo è un grossissimo problema, proprio perché in base a dove sei e anche a livello di povertà o no, si sono visti molti problemi all'interno di società, ma anche all'interno del mondo di lavoro, dove sono esclusi di partenza. Perciò, ecco, è questa la parte che a me interessava. Comunque già da anni, per il mio vissuto di diversità, a me interessava scoprire. Non era solo io, anche gli altri, e ora vi vorrei far vedere. In uno studio di oltre 1.600.000 talenti in 62 paesi, volevo andare a capire in realtà come la definiscono. Vi farò vedere in generale, ok, questa è una cosa che aggrega tutti, ma anche dove ci sono magari delle differenze molto, molto minime. Alla domanda come definisci la diversità, in generale, l'83% dei millennials e il 92% della generazione Z, che sono, giusto per farvi capire, i 22 anni, perché già sono nel mondo del lavoro, sono gli stagisti, hanno detto diversità culturale. Perciò quella parte che vi ho fatto vedere del libro molto più profonda, no. In realtà, come abbiamo visto, i millennials sono molto più interessati alla diversità cognitiva, diversità di pensieri, idee e filosofie. E allora l'etnia, il gender, l'età, in realtà la seconda delle opzioni, ma molto, molto in secondo, il 53% definisce la diversità come diversità di età. Perciò l'età viene prima sia della diversità etnica, sia di quella di genere. Non so se condividete con me, in realtà noi la guardiamo di solito, specialmente in Italia, da dove, insomma, sono ora un paio di anni dove veramente voglio parlarne di più, ma se ne parla di più, ma in realtà fino ad ora volevano soltanto parlare di diversità di genere. Questo è un risultato, questo non cambierà. Perciò se le società non parlano in maniera molto vasta di questo topic, ma delle cose personali, impersonali, delle cose visibili, credo che veramente si sbagli. E anche perché, chissà, la diversità è una cosa molto personale, magari è l'accento, magari è lo stile di lavoro. Spesso e volentieri quando parliamo con donne, sono quelli, ci sono le donne più esaboranti, quelle meno. Spesso sono tante le cose dove noi ci sentiamo un po' diversi, e a meno che non le celebriamo, non le apriamo, diventano come una cosa che ci rende, anzi, insicuri, certamente non più forti. In realtà, come abbiamo visto, la diversità non può solo che rafforzare. Una cosa bella è che questa generazione celebra. Quando abbiamo fatto la domanda ed ero sorpresissima, proprio la diversità, a chiedergli che diversità apporti te, la tua diversità, io ero sicura che sarebbe stato difficile e molte persone non si sarebbero auto-identificate, certamente non nella mia generazione, mentre in realtà sono molte le domande, aggiungono tutte le diverse etnie che sono, insomma, questa generazione è molto fiera di quello che portano. Qui vi voglio far vedere cosa vuol dire diversità per i millennials, e avete visto, la maggior parte dice cultural diversity, la diversità culturale, e senza esclusione, global, Africa, APA, come vedete, tutte le regioni, chiaramente la diversità etnica è abbastanza più importante in Africa come nel Nord America. Sono delle realtà, chiaramente, che non si possono non vedere, non notare, ma in realtà continua ad essere quella parte invisibile, un po' la personalità, gli stili di lavoro. E allora volevo domandare, qui ero curiosissima, ok, quella è come definisci la diversità, ma in che modo, sia professionisti, perciò la barra blu, gen ex, che poi sono la generazione, la mia generazione, ultra 40, e i millennials, che sono la generazione Y, arancione, com'è che definiscono la diversità e inclusione sul posto di lavoro? Quali sono le cose che, secondo loro, descrivono la diversità nel mondo di lavoro? Anche qui, etnicità, chiaramente, probabilmente perché vedono questa, di solito, la cosa più ovvia, più espressa, più celebrata, però sesso, età, nazionalità, e come vedete, ci sono e cominciano ad essere la personalità, già quella per la millennials, diventa una cosa che per loro di nuovo, vedono, no, molte società discutere e parlare, perché infatti, questo multigenerazionale è un altro elemento, chiaramente, di diversity e inclusion. E come vedete, anche le esperienze lavorative in industrie differenti, più importante per la mia generazione, oppure un apporto che, chiaramente, noi pensiamo di portare, ma anche l'orientamento sessuale. Quando, e questi, quelli che pensano invece di portare in un'azienda, quelli che personalmente pensano di portare, e che vogliono un po' anche celebrati, e qui un po' l'opposto. Qui vediamo personalità, sia per la generazione, la mia generazione, quella dei millennials, importantissima, chiaramente più per i millennials, l'educazione, anche questo, secondo loro, è un apporto che vedono, l'età, il sesso, il stile lavorativo. Però, di nuovo, tante similitudini, ma anche alcune differenze. Perciò, come abbiamo visto, la segmentazione, il conoscere il target di cui parliamo, queste sono tutte cose, vediamo crescere sempre di più, per questa nuova generazione, la disabilità, come una cosa che vogliono vedere, vogliono vedere più discussa, più analizzata, e più anche celebrata, come un plus, non un negative. Se guardiamo poi, quest'altra parte, mi interessava anche capire, quali sono i paesi o le regioni, che accettano la diversità, e ritengono che avere managers, e colleghi con un background, diversi, sia un valore aggiunto. E volevo capire, quali sono queste regioni, in cui, in realtà, dove si vede più questo, come valore, per me è importante avere un gruppo diverse, di employees, e ahimè, vediamo altri paesi, non tanto il Central Eastern Europe, che comunque è dove l'Italia fa parte, dove in realtà sono molti di più, questi millennials, che vogliono avere colleghi e manager di background diversi, perciò celebrarli, parlarne, insomma, averne sempre di più, includerli è importante, molto meno, ahimè, invece in queste regioni. Non credo sia una sorpresa, però, ecco, sicuramente andrà a cambiare, io ho la fortuna di guardare questi tipi di dati, da 25 anni, e vi assicuro, lo vedremo, e qui, di nuovo un po' una lezione. Perché, che cosa pensano i talenti sulla diversità? Com'è che la descrivono? Per loro, apprezzamento, società che sono aperte, inclusive, e che loro definiscono diverse employers, sono apprezzamento per la diversità, però non la lasciano mai a soltanto diversità, per loro è sempre chiaramente descritta con cooperazione, unità, sforzandosi di fare la differenza nel mondo, perciò non solo individuale, ma proprio un'apertura e un impegno, educa le popolazioni, i locali, aiuta ad aumentare la salute generale, promuovere l'uguaglianza di genere in tutto il mondo, perciò spesso e volentieri va da diversità a welfare, insomma, non per loro si è SAR, è tutto veramente un po' a che fare con rispetto, rispetto dell'individuo, e poi indiscriminatamente fiducia nelle donne, non inclusione delle donne, ma fiducia, perché in realtà inclusione si trasmette in questo, posto di lavoro dinamico, che abbraccia la diversità e le parità di genere, impegno alla diversità, enfasi sulla parità di sesso e di razza, sulle sostenibilità ambientali, come vedete per loro è un po' il tutto, rispettare il mondo, noi stessi, l'individuo, il collettivo, in che misura ritieni a questa domanda, che le aziende in generale siano aperte nei confronti della diversità, qui a livello globale è un 49%, è interessante vedere che l'Asia è la percentuale, forse perché di nuovo, insomma, molte culture, molte diverse realtà, anche religioni, il 55%, il Nord America a seguire, e poi il resto. Vi domanderete, l'Italia, ahimè, solo il 37% dei millennials in Italia ritiene che le aziende siano aperte, nei confronti della diversità, ma abbiamo visto ora, sicuramente questo dato cambierà, e in generale lo deve essere, perché in realtà vedremo, è un po' un business case. Allora, queste sono le definizioni di diversità, e vi ho fatto vedere alla domanda, è importante la diversità, come la definisci, come rispondono. Allora io volevo un po' capovolgere il tutto, volevo farvi vedere, in realtà parliamo delle generazioni, come abbiamo visto, importantissime, faranno parte del 75% della forza lavoro nel 2025, sarà la maggior parte fatta di millennials, e di generazioni Z, perciò è importante, ma se guardiamo queste generazioni cosa vogliono, non parliamo di diversity and inclusion, ma cosa vorrebbero, come attrattenerli, notiamo che c'è uno shift incredibile, in quello che cercano, in un datore di lavoro, sia per rimanere, ma anche per raggiungerci. Non guardano più il settore, non guardano più i brands, il nome, la reputation, nemmeno il ruolo che andranno a ricoprire, per loro molto, molto più importante, quando scelgono, e quando scelgono di rimanere, di fare ambassadorship, ma anche di andare e scegliere, è l'environment, l'atmosfera lavorativa, in cui andranno a lavorare. Per loro è fondamentale, l'avrete visto, la cultural fit, quante volte lo vorremmo sentire. E alla domanda, e qui farò vedere, generazione Z, perciò 22 anni, ok, è prima, Gen Y, millennials, e Gen X, oltre 40 anni. Alla domanda, cosa deve offrire un datore di lavoro, per diventare il tuo ideal employer, qui riscopriamo di nuovo, tratti di quello che è importante, per l'inclusion, o in realtà per me, diversity and inclusion. Il rispetto, in realtà lo vedremmo dopo, detto e ridetto in mille altre maniere, il rispetto di nuovo in Gen Y, e c'è anche nella generazione X. Chiaramente qui si leggono tante cose, l'onestà, la serietà, la meritocrazia, ma anche il rispetto, come vedete nella mia, sempre importante nella millennials, ma di nuovo la fiducia, il rispetto, ancora più forti nella generazione Z. E il rispetto mi ha fatto pensare, ok, cosa vuol dire? E' molto personale il rispetto, giusto? Non solo è importante, ma anche quando guardiamo nelle paure, perché come abbiamo imparato nella consumer brand, ma anche nell'employer brand, di cui mi occupo io, che è quello di descrizione, di aiutare le società a comunicarsi come posto di lavoro, capire le paure è fondamentale. Qui guardiamo l'Italia, arancione globale, una delle paure che millennialzano, di nuovo, middle management, nelle aziende, è trovare un lavoro che non soddisfa la mia personalità. Questo, come abbiamo visto, la personalità, è un tratto di come descrivono la divorce, se vi ricordate, e neanche realizzare i miei obiettivi di carriera e poi a seguirne altri. E allora, l'importanza di nuovo della culture fate è importante. Ecco perché vedremo sempre di più società descrivere la loro personalità, non cosa fanno, che ruoli vorranno, si parla di J&J DNA, Entrepreneurial C Opportunities, qui non lo vedete, Find Your Feet at P&G, The Vodafone Way, molto più delle personalità. Questo sarà il futuro. Di nuovo, le personalità che sono abbastanza inclusive e aperte, si spiegano. Perché parlavo del... Abbiamo visto che una delle paure loro è quella di trovare una cultura di lavoro dove non riuscivano a esprimere la loro personalità, giusto? Questa era una delle più grosse paure. Allora noi volevamo capire cosa vuol dire la personalità a livello di lavoro, in che senso un datore di lavoro dovrebbe corrispondere alla loro identità. Quando abbiamo fatto questa domanda abbiamo notato che per loro cos'è che definisce poi per loro se la loro personalità si troverà è vedere se ci sono persone amichevoli, amichevoli, friendly, aperte, stessa visione sull'accettazione e l'uguaglianza della diversità che abbiamo visto prima e poi a livello di formalità, eccetera. Però di nuovo diversity torna fuori, si è visto nel mondo di rispetto, di apertura, del friendly, ma anche della struttura organizzativa. E di nuovo anche nel tipo di career goal che volevano in quello che vogliono ottenere è il riconoscimento e il rispetto. Tutte cose che ci fanno capire quanto quanto importanti siano. Sono uguali nella stessa maniera per uomini e donne questa cosa importante? È chiaro che per le donne probabilmente non sarà una sorpresa alcuni di questi aspetti sono ancora più importanti, ancora di più avere una società. Perciò quando andiamo a targetizzare questi sono tutti elementi che per le donne in particolar modo diventano ancora più importanti rispetto agli uomini che sono in basso. Credo che vi ho fatto, vi ho parlato moltissimo già e vi ho dato idee. Una cosa importante dato che in Italia si parla tanto di donne e sono quasi un minuto ancora da andare e forse lo riconoscerete è molte più donne rispetto agli uomini sono interessate a una carriera internazionale. Questo è un dato di fatto, non importa in cui paese abbia guardato anche in Italia questo è una che sono nelle top 3 cose che vogliono. In realtà ahimè non le ricevono quando guardiamo a livello di società non vengono offerte. In realtà questa è un po' di nuovo una bias che viene fatta perché spesso sia uomini che donne pensano no 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 quella persona ha una famiglia è più difficile e più sforzato. Perciò di nuovo anche nelle diversity ci sono i dati che ci hanno proprio fatto vedere che in realtà sia come employer ma come dipendente di rimanere aperti perché tanti bias che si possono avere in un mondo che è cambiato così non lo sono. Questo è uno di quelli e ce ne sono tantissimi ancora che ho visto. Perciò per riassumere nel passato inclusione in relazione all'uguaglianza demografica la visione non millennials era più che altro una questione morale che si faceva anche legale continuo ad esserlo mi ho visto delle quote rose eccetera però in realtà era un po' il passato perché è necessaria e vantaggi direttamente il business oggi invece per i millennials come avete visto non lo descrivono per loro è in sito in quello che vogliono in come vogliono lavorare e nel tipo di cultura è quello che vogliono andare a cercare perciò apertura liberalizzazione anche delle proprie personalità al lavoro è un po' alla base di tutto perciò come avete visto è un po' per loro una fusione di prospettive uniche all'interno di una squadra credono veramente che le differenze in realtà siano proprio quelle che possono portare a vantaggiare le società e non sono gli unici a pensarlo se guardiamo Apple qualità di CEO non sono soddisfatti dei numeri in questa pagina è proprio il CEO che lo dice e quello che vedi appena arrivi è inclusion inspiring innovation sappiamo che il mondo che si trasforma è tecnologia più innovazione e la diversità in realtà la può portare stesso per Google che ne parla apertamente avere una varietà di prospettive porta a prendere decisioni migliori e prodotti più pertinenti e rende il lavoro molto più interessante perciò c'è la business case lo sanno tutti ma in realtà c'è anche una case di inclusion di guardare avanti alle generazioni ed è forse uno degli elementi più fondamentali se vogliamo non solo assumere ma collaborare e veramente creare un mondo di lavoro ancora più aperto più efficiente più produttivo perciò vi ringrazio molto e grazie per il tempo grazie a tutti grazie a tutti